Il Nidil Cigelle di Bari impegnato a diffondere la guida a nessun dorma per capire la riforma del lavoro e le sue trappole. Sorge nel quartiere San Paolo di Bari l'unico centro di urro in Puglia per la riabilitazione psichiatrica a gestione pubblica. A breve il taglio del nastro. Ben ritrovati su Cigelle Bari Web TV. Si chiama Nessun Dorma, la guida a Cigelle per capire la riforma del lavoro in vigore dello scorso 18 luglio. Una legge che non cancella nessuna delle 46 tipologie contrattuali, che interviene poco e male sulla regolamentazione delle figure atipiche e non estende gli ammortizzatori sociali a chi ne è privo. È fondamentale quindi allertare i lavoratori rispetto alle trappole nascoste tra le pieghe di questa riforma. Sentiamo da Nico Di Sabato e da Stefania Santoro come il Nidil Cigelle Bari è impegnato a diffondere i contenuti della guida. Noi stiamo pubblicizzando la guida Nessun Dorma sia sul sito dei giovani non più, non più disposti a tutto, sia sulla nostra pagina Facebook del Nidil Cigelle Bari. Inoltre la diffondiamo, la stiamo diffondendo, continueremo a diffonderla nei luoghi di lavoro attraverso i nostri delegati sindacali, in ogni Camera del Lavoro, in ogni sede della Cigelle. La guida inoltre contiene anche un sondaggio. Per ciascuna tipologia contrattuale vengono poste una serie di domande in cui noi chiediamo ai lavoratori, poiché la riforma è andata in vigore dal 18 luglio, quali sono state le azioni che i datori di lavoro hanno messo in campo nei luoghi di lavoro per capire quali sono i risvolti negativi e magari se ci fossero anche positivi di questa riforma. Perché fate questo? Per capire, prima di tutto per capire come possiamo agire per limitare i danni di questa riforma e per informare ciascun lavoratore di rivolgersi al sindacato, di rivolgersi al Nidil per mettere in atto tutte le azioni necessarie a difendere i loro diritti. Abbiamo un dato che riguarda la situazione dei giovani precari in provincia di Bari? Può essere interessante prendere in esame, siccome le forme contrattuali sono veramente tante, quindi dare un po' tutti i dati è complesso, prendiamo ad esempio cosa succede per gli associati in partecipazione, cioè è una forma contrattuale soprattutto utilizzata nel settore del commercio dove praticamente chi svolge attività solitamente di commesso all'interno dei negozi che si trovano nelle gallerie commerciali o in grandi catene di distribuzione, abbiamo dei lavoratori che pur essendo commessi non hanno un contratto da dipendente ma hanno un contratto appunto che si chiama di associati in partecipazione dove fondamentalmente è come se si costituisse una associazione, una società tra la proprietà dell'azienda e il lavoratore che ci sta dentro, dove il lavoratore ci mette in questa società la sua opera lavorativa e l'azienda ci mette tutto il resto. Intorno a questa cosa abbiamo una serie di dati, ad esempio in Puglia sono 1800 i lavoratori che hanno questa tipologia di contratto in prevalenza al 60% donne, un terzo delle quali dal di sotto dei 30 anni, quindi anche una categoria lavorativa abbastanza fragile, abbastanza delicata. Ora noi che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto prima alle aziende, poi al Parlamento, insomma comunque a livello nazionale prima che la riforma venisse attuata, era quella di eliminare questa forma di contratto, perché secondo noi nasconde un abuso il fatto appunto di non applicare un contratto di lavoro dipendente ma un contratto di questo tipo. La riforma invece questo non ha portato, ha portato ad una diminuzione dell'utilizzo di questa forma e noi abbiamo aperto delle trattative con le aziende, di fatti abbiamo delle trattative in corso come Nidil, anche insieme a Filcams, con Poltrone e Sofà, ad esempio come Mercatone 1, dove stiamo tentando di portare dei miglioramenti lavorativi. Palo e l'igiene urbana, cittadini, lavoratori, ambiente e tasse. Un equilibrio impossibile è il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Camera del Lavoro di Palo del Colle in programma giovedì 18 ottobre alle ore 18 in piazza Santa Croce, introduce Saverio Gramegna, coordinatore della Camera del Lavoro di Palo del Colle, intervengono Domenico Conte, sindaco di Palo, l'assessore Onofrio Daniello e conclude Pino Gesmundo, segretario della Camera del Lavoro metropolitana. E lo avete sentito dai nostri titoli, sorge nel quartiere San Paolo di Bari, è l'unico centro di urno in Puglia per la riabilitazione psichiatrica a gestione pubblica. A breve il taglio del nastro, sentiamo l'intervista Gianfranco Carbone, direttore del centro Cune Gonda. È l'unico centro di urno in Puglia per la riabilitazione psichiatrica a gestione pubblica, si chiamerà Cune Gonda. Questa struttura che sorge nel quartiere San Paolo di Bari e che tra fine 2012 e inizi del nuovo anno sarà pronta per ospitare anche pazienti inseriti in progetti di inclusione sociale presso aziende private. Mille metri quadrati, suddivisi fra laboratori di falegnameria e restauro, ceramica, pelletteria, stanza della musica. All'esterno, duemila metri quadrati di giardino saranno utilizzati per attività ludico-ricreative e sportive. Il pubblico si cimenta in una delle prestazioni LEA fondamentali per il Dipartimento di Salute Mentale in un campo nel quale fino a questo momento ha operato il privato, prevalentemente privato sociale, che ha dato un forte contributo. Noi abbiamo intenzione di utilizzare tutte le esperienze che in questi anni si sono maturate nel campo e abbiamo intenzione di fare del primo centro di urno a gestione diretta del pubblico un centro di eccellenza dove non solo si fa la comune riabilitazione psichiatrica ma questo è un centro che nasce con una vocazione alla inclusione sociale lavorativa. Noi avremo sia utenti che ci verranno inviati dai CSM per il processo di riabilitazione che utenti che non soggiorneranno all'interno del centro di urno ma dagli operatori del centro di urno verranno seguiti nei processi di inclusione sociale, nei tirocini formativi e nelle borse lavoro che avvieremo verso strutture private. Chiudere in Puglia il più grande manicomio d'Europa è stata un'operazione lunga, difficile, travagliata che è costata fiordi quattrini ma sono soldi che noi abbiamo spesso per far entrare questa nostra regione nella civiltà. A questo punto si tratta di fare un ulteriore passo avanti. Superare lo stigma è un lavoro durissimo. Noi ci proviamo anche attraverso questa struttura. L'apertura di questo centro pubblico di riabilitazione psichiatrica è sicuramente un grande risultato in termini di conquiste di civiltà ulteriore, conquiste di civiltà oltre a quella che ha sostenuto la CGL nel passato. E lo ha ancora di più oggi in un momento in cui c'è questa tendenza da parte del governo nazionale di tagliare il pubblico. Quindi il fatto che qui in terra di Bari oggi si investa nel primo centro pubblico di riabilitazione psichiatrica è sicuramente un grandissimo risultato. Ovviamente non dobbiamo assolutamente dimenticare tutto quello che è stato il percorso nel corso degli anni della riabilitazione psichiatrica. Si tratta di un livello essenziale di assistenza che fino ad oggi però è stato assicurato dal privato, dal privato sociale nella fattispecie che comunque ha cercato di dare gambe a questa battaglia di civiltà sostenuta per l'appunto della CGL. E quindi anche in questo passaggio di investimento al pubblico noi come CGL dobbiamo riconoscere il merito di tutti quei lavoratori che si sono impegnati nel privato sociale sulla riabilitazione psichiatrica. E online sul nostro sito www.cgelebari.it ogni giorno intorno alle 11 la rassegna stampa che la Camera del Lavoro di Bari realizza quotidianamente con l'obiettivo di far diventare sempre più grande la nostra organizzazione sul territorio. Questo strumento è di facile consultazione perché ogni articolo viene scansionato in base alla testata su cui è pubblicato e inserito all'interno di una specifica rubrica. Siamo convinti che la rassegna sia fondamentale per essere aggiornati in tempi rapidi su quello che la stampa locale ha pubblicato in merito a tematiche inerenti all'attività sindacale e il mondo del lavoro. Un nuovo modo dunque per essere sempre al corrente di quello che succede nei tanti ambiti in cui opera la Camera del Lavoro. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Potete seguirci sul nostro sito internet www.cgelebari.it Arrivederci!